Tutti i giorni noi produciamo una quantità enorme di plastica, pensate a 280 milioni di tonnellate all'anno e secondo uno studio americano nel 2050 saranno 400 milioni di tonnellate all'anno e il 10% di queste tonnellate finisce a mare. È partita a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci la campagna Mare Mostro realizzata da Mare Vivo per informare e sensibilizzare sull'impatto della plastica in mare. Un problema che sta assumendo dimensioni inarrestabili, sono miliardi i microscopici frammenti di plastica che sfuggono a qualsiasi filtro e arrivano direttamente in mare dove sono ingeriti dei pesci con possibili ripercussioni anche per la salute umana. Per porre un freno a tutto questo il presidente dell'ottava commissione ambiente della Camera, Rialacci, ha presentato una proposta di legge sottoscritta da oltre 40 deputati che vieta dal 2019 la produzione e il commercio di cosmetici contenenti microplastiche. Ciò che prendiamo deve essere consumato bene e poi recuperato. Pensare di mettere una singola busta lasciata così su un tavolino che il vento può portare in mare, quella può finire nel circuito alimentare. Quindi un piccolo gesto da parte di ognuno di noi rappresenta davvero l'abbraccio al pianeta che per tanti anni, tanti milioni di anni, ha saputo abbracciare tutti gli umani che ha ospitato. È fondamentale la consapevolezza dei nostri comportamenti. La proposta illustrata oggi insieme alla campagna è oggetto anche di una petizione online che si può sottoscrivere su change.org o su marevivo.it per accelerare i tempi di approvazione in Parlamento. Noi dobbiamo combattere tutti insieme contro questo mostro. Pensate che si sono formate intere isole di plastica nel Pacifico che sono più grandi dell'intero Mediterraneo. Una broda di plastica schifosa. Ora tutto questo bisogna che noi reagiamo e tutto il mondo vada in quella direzione. Dopo un lungo periodo di sosta per lavori di ammodernamento, lo storico veliero Amerigo Vespucci che festeggia l'85esimo anniversario torna a solcare i mari partenopei e farà tappa a Napoli con possibilità di visite fino al 2 luglio. L'occasione è offerta dalla Naples Shipping Week 2016 e dalla manifestazione Velle d'Epoca che vedrà anche la nave scuola protagonista sabato prossimo sul campo di regata. Grazie.